Domenica 27 ottobre, San Evaristo Papa e il 301esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 65 al termine. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 17.05. La luna si leva alle 2.30 e tramonta alle 15.17. Viene richiamato in vigore un decreto dell'aprile 1487 con il quale si vietava la fabbricazione, lo spaccio e l'uso di pietre preziose false. Le previsioni per domani. Cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso con crescenti spazi di sereno. Parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime un po' in diminuzione. Massime stazionarie o in lieve calo sulle zone pianeggianti e stazionarie o in lieve aumento su quelle montane.